ma stavolta mi sono preso un bandit il telefono ne ho portato di là per quale non vuce la automatica è a me si deve per farmi un bel lupo di venire in città Rake, 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 Rake Sì, sì Vabbè, provo per la via Rake, Rake Rage 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 ucciso no porco giuro non ho presentato vabbè da metà vita brava brava buono allora l'agenda è a sinistra è a sinistra nella stanza di sinistra la stanza di sinistra non è là l'agenda è dietro vita è dietro vita nella stanza di destra nella stanza di destra questa qua che c'hai brava entra da qua entra da qua entra da qua occhio Lippo com'era il video come dire pizzi suor qua vabbè stavo cazzeggiando l'agenda vabbè mi ti passa un fratello che quel giorno il sito sono negato io babbia ciao ciao babbia ciao è a sinistra l'agenda è a sinistra l'agenda no a sinistra lì fuori no a sinistra lì fuori ciao 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 ma perché non piace molto fortnite eh boh non è il battle royale non è mai stato il mio giorno ma quello è bellissimo vabbè però quanti anni hai te? 10 eh io gioco da un po' più tempo di te ho provato molti più giochi ti posso dire che per me fortnite non è un bel gioco c'è il problema a voi vi piace a voi vi piace è uno dei pochi giochi che avete provato e quindi ovvio che un gioco del genere vi possa piacere oh però ti assicuro che vabbè è migliore però si arrivo la verità è che loro piace perchè non stanno nascendo eh appunto appunto per questo viva Tekken, Mortal Kombat e tant'altro eh quelli sono i giochi molto vecchi quelli sono i giochi molto vecchi quelli ci giocavo sulla PSP non mi scassa va ricco questi giochi abbiamo non l'avevamo questo gioco giuro c'è proprio a Tekken io sono un patito proprio mortale di Tekken c'è anche quello nuovo è anche quello nuovo è anche quello nuovo sì da Tekken 7 io poi tra l'altro regalatore Xbox a mio fratello ma qualche gioco me lo son comprato anche per me mi ha fatto bene mi ha fatto bene scusa scusa ma tu come ti chiami Nussi? come ti chiami? io? di cazzo che? Gabriele nella vita reale Gabriele ah Gabriele vabbè quanti anni hai Gabriele? devo fare il 17 settembre va bene vabbè qua stiamo facendo i pedofili i pedofili comunque eh eh vabbè mi hai fatto bene ogni volta che tu lo vedi ogni volta che ti sto perdendo una partita penso a te e mi hai fatto un consigliato subito subito la rinco secondi mi hai fatto un nemico pure la bomba oh ma scusa ma tu capisci che sei vengono io seguo la campiera scusa scusa mi hai messo davanti sono cosa bella è che ho tappato il cap cane in testa se ne ho sbattuto vabbè bravo gara ho deciso ho deciso d'acqua vabbè 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 dov'è vabbè 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 no per cosa che succede e' ovvio vabbè che lui di livello quanto è un po' al momento 213 faccio i due gatti No Come? a di zinesca di zinesca di zinesca di zinesca ti copro io di zinesca va vai eh raga che cosa? che cosa dovete zinesca? bravo eh vai bella Adria facciamo il casino facciamo un'altra battita io ho visto l'unico che... uno che sta a dire davanti con lui e che fa il video forno e che fa il video forno e si va ora io non faccio niente si ma quando stanno in livello 100 va a forno a vedere io ho capito ho capito oh porca beh non c'è ancora lui il suo video forno oh attenzione ho capito oh porca laghi devo ricaricare ma cazzo ma il bug era qua ma porco giuda eh infatti è dappertutto eh vabbè niente peccato siamo in balia di capitano aiuto 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 vabbè pure se ti cura sempre muori aiuto capitano no capitano no ma dai come mi ha fatto a non vedere o comunque eh 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 cazzo ma dove devo cioè devo mi devo mettere mi devo mettere a a giocare al salone a giocare al salone davvero non vorrei sapere no va bene mi tocca mi tocca impegnarmi in libera eh vabbè dovevo impegnarmi in libera quindi niente back mo si gioca serio no prendo dai vada vada vedi io mi sono preso il fuzio blackboard scegliere tutta la vita tutta la vita tutt'isci tutti i cieli tutti i cieli io mi sono preso il fuzio fuzio gabbrile ma il fuzio è scarso no non è scarso in classifica no ma nessuno per attorno a realtà è scarso soltanto che diciamo che fiuzzi bisogna saperlo usare si deve usare bene e io ci provo no raga io non sono tanto forte al livello del momento livello 200 ciao non le più fatte di tutti vabbè oh ma perché lo giochiamo a fortuna perché? dopo di questa giochiamo a fortuna eh pensavo che non avessi te male eh dopo di questa giochiamo a fortuna non lo so no io mi devo fare la fama per blackjack lo so che devi stare a 5 mila di fama dovrà 15 mila però me la voglio fare la fama oppure vogliamo giocare a rainbow? rainbow rainbow tutta la vita ok ma vedi la vita tanto ma sono 91 di vita hai 91 di vita hai no ce l'avevo 100 ma è una giornata 30 no raga raga che faccia di paura raga prendete i mescatori raga prendete i mescatori e la mano fuori va mano fuori va sei morto è troppo forte sto Drake, è troppo forte, è troppo forte, abbiamo vinto no, alleluia, no, guardami come so chi è tu, hai visto, si vola, ciao Gabriele, vabbè ragazzi io vado, grazie mille per la partita, e caricherò questo video uno di questi giorni, adesso vedo quando, entro la fine della settimana, va bene, ciao ragazzi, grazie a te, Drake ho avuto tantissima fama, grazie a te, non di niente, ciao ragazzi, ciao